Oh Belinato, riguardo alla questione che vuoi fare il pesto con la rugola, ti va di lusso che siamo in quarantena e non puoi uscire perché se incontravi certe persone che dico io... Aspetta un'altra chiamata sotto... Non rispondere... Stefano, ah non c'avevi il basilico, ci hai messo la ru... io non riesco neanche a dire... uno che fa un paese con Uga Mitsu, con lo spinacini che fanno i tappadana, va bene ma sono tutte scelte, sei tranquillo? Noi del movimento estremista Ligone non ce l'abbiamo mica quelli con quelli come voi brutti secchi del stupido, dei scemo, dei brutti di Galarate, ma o belin, ma sei scemo, ma o belin, che c***o, 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 a te, ma ti è proprio una bellina, e gli altri da subaggire con chi le feggia piccina cos'è ne femmo, ma che ti va a gaminare una corba di bellina a me, vanni, vanno... C***o che c***o è un c***o, però noi siamo tranquilli, io sono bello tranquillo, non mi importa, guarda. Mi affido alla saggessà popolare che dice grande, grosso e belinato. Quello è quello che sei! Allora caro Stefano, per farti tornare sulla strada della unta parola di Genova, oggi ti insegno a fare la focaccia genovese la pizza bianca